Buongiorno ragazzi, oggi vi parlerò dei triangoli. I triangoli sono figure piane che hanno tre vertici, tre lati, tre altezze e tre angoli da cui appunto il nome. Se osservate questa figura, i vertici sono le punte, chiamate qui A, C e B, i lati si chiamano con le due lettere dei vertici, quindi questo è il lato AB, questo è il lato BC e questo è il lato AC. Questa che da B scende verso la base in modo perpendicolare, quindi formando angoli di 90 gradi, è l'altezza relativa alla base e dato che questo è un triangolo isoscele con questi due lati uguali. L'altezza coincide anche con la bisettrice, che è una linea che divide un angolo in due angoli uguali, ed è anche la mediana, che è la linea che unisce il vertice con la metà della base. E inoltre questa linea è anche un asse di simmetria, perché divide il nostro triangolo in due parti uguali ma speculari, come se si guardassero allo specchio. Questa linea invece è C, è l'altezza relativa al lato obliquo, perché parte dal vertice C e arriva sul lato AB in modo perpendicolare. Quindi se noi ruotassimo questo triangolo mettendo la parte C in alto, la linea CE sarebbe l'altezza del triangolo. I triangoli si possono classificare in due modi, quindi ad ogni triangolo noi possiamo attribuire due aggettivi in base a queste due classificazioni. Il primo modo per classificarlo è in base ai lati. Osservate questo triangolo ABC, ha due lati della stessa misura, come indicano anche queste lineette. E quindi questo è un triangolo isoscele. I isosceli sono i triangoli che hanno due lati uguali e uno di un'altra misura. I triangoli scaleni invece hanno tutti e tre i lati di diversa misura, mentre i triangoli equilateri hanno tutti e tre i lati uguali. In base agli angoli possiamo avere altre tre classificazioni. Abbiamo i triangoli rettangoli, che sono quelli che hanno un angolo retto. Attenzione, non importa se questo angolo retto si trova in basso o in alto. Vedete, se io ricopio come ho fatto precedentemente questo triangolo e lo faccio ruotare, vedete questo è il triangolo di poco fa, e lo faccio ruotare in questo modo, esso rimane comunque un triangolo rettangolo. E se lo faccio girare, ecco, ruotare in questo modo, rimane comunque un triangolo rettangolo. Il triangolo ottusangolo ha un angolo ottuso e due angoli acuti, mentre il triangolo acutangolo ha soltanto angoli acuti. In base a quanto detto precedentemente, quindi ogni tipo di triangolo esistente può essere classificato in due modi e quindi avere due nomi. Il triangolo rettangolo isoscele, in questo caso, per esempio, perché ha un angolo retto e perché ha due lati uguali. Questo invece è un triangolo ottusangolo e scaleno, ottusangolo perché ha un angolo ottuso in C e scaleno perché ha tutte e tre i lati di diversa misura. Mentre questo è un triangolo ottusangolo equilatero perché ha tutti gli angoli acuti e ha tutti i lati uguali. Il modo più preciso per disegnare l'altezza di un triangolo è quello di disporre un righello in linea con la base e poi appoggiarci sopra una squadretta dal lato dell'angolo retto e spostarla fino al vertice. In questo modo potremo tracciare la linea dell'altezza in modo perfettamente perpendicolare alla base. Questi tre triangoli in realtà sono sempre lo stesso triangolo che è stato ruotato. Vedete ho usato tre colori diversi per i tre lati apposta per farvi capire meglio la rotazione. Vedete in questa prima figura il lato giallo AB fa da base e l'altezza scende perpendicolare dal vertice C fino alla base. Se io però prendo questo triangolo e lo faccio ruotare in questo modo ecco otterrò questo secondo triangolo che ha appunto come base il lato rosso BC e questa quindi sarà l'altezza relativa a BC. Allo stesso modo facendo ruotare un'altra volta il nostro triangolo e mettendo alla base il lato verde il lato CA l'altezza sarà questa colorata di verde perché appunto scende perpendicolare dal vertice B fino alla base quindi ogni triangolo ha tre altezze contemporaneamente una per ogni lato. In alcuni triangoli particolari come gli ottusangoli l'altezza può anche cadere fuori dalla base. Vedete in questo triangolo per esempio tracciando la linea perpendicolare che parte dal vertice C verso la base AB otteniamo un'altezza che va a cadere sul prolungamento dalla base quindi al di fuori dal triangolo. Invece nei triangoli rettangoli le altezze coincidono almeno due delle tre altezze coincidono con i lati. Vedete in questo caso l'altezza coincide con il lato AC. Se faccio ruotare il triangolo rettangolo l'altezza diventerà il lato AB e facendo ruotare nuovamente il triangolo l'altezza invece sarà normalmente disegnata ed è questa. La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre di 180 gradi significa che se io sommassi la misura di questo angolo giallo più la misura dell'angolo rosso più quello dell'angolo verde otterrei in totale 180 gradi. Questo è facilmente dimostrabile perché se io prendo questo triangolo e lo ritaglio in tre parti spostando queste tre parti nel modo opportuno ecco e mettendoli uno accanto all'altro otterrei un angolo di 180 gradi che si chiama anche angolo piatto. Ed ecco le formule dei triangoli. Il triangolo è esattamente la metà del rettangolo che lo contiene e che ha quindi la stessa base e la stessa altezza per cui la sua superficie si ottiene moltiplicando la base per altezza e dividendo il risultato diviso 2. Mentre il perimetro si può ottenere in tre modi diversi a secondo del tipo di triangolo. Nel triangolo scaleno in cui tutti i lati hanno una misura diversa bisogna semplicemente sommarli vedete base più lato 1 più lato 2. Nel triangolo esoscele si può moltiplicare per 2 uno dei due lati uguali e poi aggiungere la base quindi base più lato per 2 e invece nel triangolo equilatero dato che tutti i lati sono uguali è sufficiente moltiplicare il lato per 3. Queste sono invece le formule inverse utili per ricavare per esempio uno dei lati avendo il perimetro. Per fare un esempio se io voglio ottenere la base avendo le misure del perimetro e degli altri due lati basterà togliere dal perimetro la somma dei due lati e otterrò la base. Invece se io posseggo la misura dell'area e voglio ricavare la misura della base non dovrò fare altro che invertire questa formula quindi al posto della base metterò l'area al posto del per metterò il diviso e al posto del diviso metterò il per. Quindi la base sarà uguale all'area per 2 invece di diviso 2 e diviso l'altezza invece di per l'altezza.